Un cordiale saluto da Andrea Viagioni di Firenze Smart per gli aggiornamenti sulla viabilità in Toscana. Partiamo dalla 11 dove a causa di un incidente si registrano rallentamenti tra Capannori e Lucca Est in direzione Pisa. Si consiglia inoltre prudenza a causa della nebbia a banche che sta interessando in particolare le tratte appenniniche della 1. Proprio sulla 1 panoramica si ricorda che a causa di lavori è chiuso il tratto Traglio e Roncobilaccio in direzione Bologna fino al 28 febbraio. Sul raccordo Siena Firenze invece a causa di restringimenti di carreggiata per lavori, possibili rallentamenti tra San Casciano e Firenze in Pruneta. A Firenze per la sistemazione di alcuni chiusini in Viale Morgagna all'incrocio con via Vittorio Emanuele restringimenti di carreggiata e possibili disagi. E per il momento è tutto. Muoversi in Toscana realizzato in collaborazione con Regione Toscana, Città Metropolitane e Comune di Firenze. Un viaggio!